Andiamo? Pultare a sinistra. Riorientamento. Tenirsi a destra e poi voltare a destra. Voltare a destra. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Voltare a destra. Prepararsi a voltare a destra. 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 Tenersi a sinistra. E poi continuare a destra. Voltare a destra. Voltare a destra. Voltare a destra. Voltare a destra. Grazie a tutti. 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 Andate a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. , 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 attenzione rispettare i limiti di velocità 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 Grazie a tutti. 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 Sto ricalcolando il percorso. Grazie a tutti. Tenersi a destra. Tenersi a destra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tenersi a destra. Puntare a destra. Grazie a tutti. Attenzione. Rispettare i limiti. Grazie a tutti. a tutti. Andate. a tutti. 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 tenersi. a tutti. 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 tenersi. a tutti. e poi, a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. tenersi. a tutti. 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 a tutti.